Mi piace questa situazione del fatto che una libreria o dei libri possano diventare delle finestre nella tua casa. In questo caso ci sono state tante piccole finestre che tengo sempre socchiuse, da poeti a filosofi, perché mi piace pensare a una poesia molto erotica, molto presente, pungolante, piena di luce ma anche piena di dolore come la poesia di Patrizia Valduga per esempio, oppure un confronto molto lontano nel tempo però che mi ha dato tanto come suggerimenti, specialmente a questo libro se mi viene da pensare a Un certo non so che e un quasi niente di Vladimir Jankilevich, di questo filosofo che parla di un qualche cosa che è sempre difficile da cogliere, però ci si può arrivare per gradi, come se fosse una sorta di girotondo dove bisogna mettere a fuoco tanti piccoli punti un po' per volta per arrivare poi a un nucleo che non potrà mai essere svelato.